Avanize Dat è finalmente disponibile in accesso anticipato su Steam, un roguelite per PC che nel corso degli ultimi mesi ha attirato l'attenzione degli appassionati del genere e che noi abbiamo finalmente provato con mano. Pronti a scoprire le nostre prime impressioni? Dopo secoli passati a falciare anime è normale averne abbastanza, così la morte ha una bella idea, ampliare la propria azienda assumendo qualche assistente per lasciargli il lavoro sul campo. La Death Inc, però, cresce sempre di più e la burocrazia diventa talmente opprimente da impedire al tristo mietitore di fare altro se non timbrare i documenti. La ditta finisce così in uno stato pietoso, con sottoposti che sfruttano l'indolenza del capo per fare il bello e il cattivo tempo. Morte, però, ne ha abbastanza e decide di riappropriarsi di cappa e falce per rimettere in riga i subalterni. Parte così il nostro viaggio dal taglio comico e ironico con Avanize Dat che ci propone una grande azienda colma di dipendenti, alcuni fedeli a morte, altri un po' meno. Non aspettatevi una trama, ma preparatevi a un piccolo e piacevole gruppo di comprimari che di partita in partita avranno qualche commento da fare sul modo in cui gestiamo l'impresa. Personaggi e dialoghi servono solo a fare colore e un po' di contesto, e non sembrano quindi rappresentare il carburante che dà la spinta all'ultima fatica di Magic Design Studios. Come detto, siamo di fronte a un roguelite, un genere che punta prima di tutto sul gameplay e su un loop rapido scandito da sconfitte, potenziamenti e nuovi tentativi. A ogni partita otterremo una certa quantità di lingotti d'oro basati sulla nostra prestazione, che saranno la valuta fondamentale per ampliare il numero di strumenti offensivi e difensivi. Ogni premi ha un costo iniziale che può venire scontato se si completano una serie di obiettivi. Parliamo di sfide come l'eliminazione di nemici e boss, il raggiungimento di nuove aree e la raccolta di monete. Si tratta di un modo interessante per permettere ai giocatori di percepire un senso di avanzamento e spingerli a mettersi alla prova, così da poter risparmiare lingotti. Viene quindi premiata l'abilità, pur andando incontro agli utenti meno agguerriti. In poche ore, infatti, è possibile accumulare grandi quantità di lingotti, con lo sblocco di nuove armi che non dovrebbe rappresentare un problema. Questa libertà di scelta sui potenziamenti va di pari passo con la libertà d'esplorazione. Il gioco è diviso in regioni, ovvero aree con un tema grafico ben preciso, a loro volta costituite da un numero di livelli predefinito. Ogni volta che si passa a quello successivo avremo facoltà di decidere a quale piano fermare l'ascensore personale di morte. Potremo optare per aree prodighe di armi, oppure zone dove trovare potenziamenti alla vita o al mana, o altre ancora in cui raccogliere anni monete. È quindi necessario trovare un giusto equilibrio e adattarsi alle proprie necessità man mano che si avanza, con la parte più casuale di ogni rank e sembra essere la quantità di cure ottenute dai nemici. Durante alcune partite ci è infatti capitato di trovarne giusto un paio, mentre in altre ne siamo stati letteralmente sommersi, finendo persino per scartarle. La casualità è un fattore classico nei roguelite, ma nel complesso gradiremmo una struttura più regolare, specie perché i nemici diventano via via più forti e la gestione dei punti vita è alquanto aggressiva. Non dovremo però solo preoccuparci della salute immediata, ma anche dei punti vita persi in modo semidefinitivo. A ogni colpo subito diminuirà infatti anche la nostra energia massima, con alcune cure che permettono di rigenerarla, ma che non è scontato riuscire a scovare. È un'esperienza che spinge quindi a giocare in modo accorto, sfruttando al meglio le risorse offensive ma adottando soprattutto un approccio difensivo. Il combattimento si basa sulla capacità di stordire i nemici, impedendo loro di attaccare. Gli avversari leggeri possono essere bloccati con pochi colpi di falce, ma i più pesanti hanno una resistenza notevole ed è consigliabile evitare assolutamente i loro colpi. Considerata inoltre la presenza di nemici che colpiscono dalla distanza, è fondamentale dunque attaccare in modo organizzato. La schivata è rapida e rende invulnerabili, ma bisogna fare i conti con un tempo di ricarica prima di poterne eseguire un'altra, fattore che impedisce di scattare a destra e a sinistra a caso confidando nella fortuna. Tuttavia, per sbarazzarsi dei nemici più potenti o di interi gruppi in modo rapido giungono in aiuto le armi extra e gli incantesimi. In ogni partita potremo portare con noi un massimo di due strumenti offensivi, come martelli, spade, coltelli da lancio, archi, ma anche palle di fuoco, esplosioni a breve raggio e onde di stordimento. Risorse che però consumano mana e hanno un tempo di recupero, ragion per cui la falce dovrà sempre essere la nostra compagna principale. Scegliere le armi e sfruttarle è divertente e rende il combattimento sempre appagante. Controller alla mano, il titolo funziona, ma anche grazie alla possibilità di usare varie combo, ad esempio in salita, in caduta o ad area. Tra tutte le capacità di morte non abbiamo apprezzato particolarmente l'attacco caricato della falce. È una mossa potente, ma richiede di rimanere fermi e quindi esposti agli attacchi. Va inoltre segnalato che in ogni partita, in modo regolare nei livelli e dopo i boss, è possibile trovare un losco figuro pronto a darci uno fra tre potenziamenti a nostra scelta. Accumularne troppi di una determinata categoria, però, causerà un certo punto all'obbligo di accettare anche una maledizione, che rende ad esempio alcuni nemici più forti. La maggior parte dei livelli, inoltre, è fin troppo lineare nell'esplorazione e molte aree sono anonime. Fanno spesso la loro comparsa delle piacevoli arene di sfida chiuse, con nemici che arrivano a ondate, studiate per permetterci di sfruttare l'ambiente, ma le sezioni ordinarie sono invece soltanto luoghi vuoti che offrono zero varietà di approccio. Senza contare che gli stage sono pochi, tanto che già dopo un paio d'ore si imparano a memoria le strutture delle prime regioni. Sul fronte visivo avremmo preferito un po' di varietà cromatica. La palette grigia finisce per stufare alla svelta, ed è un peccato perché gli ambienti disegnati a mano sono colmi di dettagli ed elementi, che tuttavia tendono a confondersi un po' troppo nello sfondo. Apprezzabile invece è la gestione della musica, che perde un giro quando si viene colpiti, trovata che si rivela un buon modo per dare un feedback al giocatore. Oltre a qualche testo non tradotto in italiano, si riscontrano anche piccole imprecisioni nei livelli, con punti nei quali morte finisce per incastrarsi. Niente di troppo grave, sia chiaro, soprattutto considerando che il framerate non dà problemi. Avanize Death propone un accesso anticipato, convincente e con una buona quantità di contenuti da sbloccare. L'opera di Magic Design non appare molto innovativa, e certe componenti meriterebbero ancora un ampliamento e alcune migliorie. Chi intende avvicinarsi al genere farebbe meglio però ad aspettare. Sul mercato ci sono moltissimi roguelite più originali, e per il momento Avanize Death è ben lontano dal superarlo in termini di qualità. I fan più sfegatati invece troveranno un gioco per i loro gusti e potrebbero voler supportare il team già ora. Rimane da vedere in che modo si evolverà lo sviluppo nel corso dei mesi, ma per il momento le prime impressioni ped alla mano sono abbastanza positive. Voi che cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qui sotto e non dimenticate di seguire Multiplayer.it su tutti i suoi canali. A cominciare ovviamente da YouTube, dove vi consigliamo anche di attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi video come quelli qui accanto. Grazie e alla prossima!